Eccomi qua allora ho lavorato 1 2 3 4 5 e 6 giri in totale la misura della mia borsa a questo punto è 40 centimetri di larghezza per 30 centimetri di altezza io considero che qualche cosa andrà a prendere perché poi col peso andrà ad allungarsi un po' quindi un 2 3 centimetri anche se ho cercato di lavorare nel modo più stretto possibile ma andrò a prenderli quindi secondo me questa è la misura giusta e ideale adesso dobbiamo andare a realizzare il nostro bordino di rifinitura e poi i manici quindi mi sono fermata a questo punto quindi finiamo insieme l'ultimo giro dell'ultima mezzaluna in modo che poi possiamo partire insieme e guardare cosa dobbiamo andare a fare allora finisco questo giro quindi siamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 faccio la decima maglia alta e vado a fare l'undicesima maglia alta ora una catenella e vado come al solito a fermare il mio giro nella congiunzione con la mezzaluna precedente ok adesso dobbiamo iniziare con i giri di maglie basse ma le due maglie di base quelle di congiunzione vedete queste sono le 11 del nostro ventaglietto queste sono le due di congiunzione non vanno lavorate quindi io faccio una catenella una seconda catenella e salto subito nella prima maglia alta del mio ventaglietto quindi nella prima delle 11 entro e lavoro una maglia bassa in questo modo qui mi metto il marca punti per ricordarmi che questo è l'inizio del mio giro poi vado a lavorare due maglie basse nell'archetto facevamo due catenelle quindi lavoriamo due maglie basse e una maglia bassa nella maglia alta due maglie basse nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta due maglie basse nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta in questo modo vado avanti a lavorare per tutto il ventaglietto ci vediamo un pochino prima dell'undicesima maglia alta allora una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci due maglie basse nell'archetto e una maglia bassa sull'undicesima maglia del nostro giro ora dobbiamo saltare questa congiunzione e andare sulla prima delle altre 11 maglie quindi una catenella in questo modo salto questa parte vado sulla prima delle 11 maglie alte della mezzaluna successiva e lavoro la mia maglia bassa e così abbiamo saltato e abbiamo anche chiuso il nostro lavoro due maglie basse nell'archetto una maglia bassa nella maglia alta due maglie basse nell'archetto una maglia bassa nella maglia alta vado avanti così fino all'undicesima maglia alta del mio archetto ho lavorato dieci archetti vado a lavorare le ultime due maglie basse nell'archetto e un'ultima maglia bassa sull'undicesima maglia alta sottostante di nuovo di nuovo dobbiamo saltare sull'archetto successivo quindi una catenella andiamo sulla prima maglia alta delle 11 che abbiamo sulla mezzaluna quindi saltiamo le prime due la prima maglia alta la vedete perché è proprio parallela alle altre entriamo nella prima maglia alta andiamo a fare una maglia bassa e ora ricominciamo a lavorare due maglie basse nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta andiamo avanti così per tutto il giro e ci vediamo quando arriviamo al marca punti per chiudere il giro insieme ok sono arrivata sulla mia undicesima maglia alta di qua ho il marca punti vedete che è sulla prima maglia alta del ventaglietto noi abbiamo fatto poi la maglia bassa quindi una catenella tolgo il mio marca punti e vado a fare una maglia bassa dove avevo messo il marca punti anzi scusatemi una maglia bassissima e poi rientro e lavoro la mia prima maglia bassa del secondo giro vado a rimettere il mio marca punti in modo da essere tranquilla così non mi perdo i giri ok e riparto lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa del giro sottostante quindi adesso qua non abbiamo più da guardare niente lavoriamo una maglia bassa sopra ogni giro ogni maglia bassa del giro sottostante fino ad arrivare alla congiunzione quindi arriviamo qui dove abbiamo prima fatto la catenella e lavoriamo insieme quel pezzettino ok qua è dove abbiamo fatto la catenella vedete e ci si sposta nella mezzaluna successiva quindi io vado a lavorare le mie maglie basse fino all'archetto qui abbiamo lo spazio io ignoro lo spazio mi sposto direttamente sulla maglia bassa successiva e lavoro una maglia bassa a questo punto in questo modo abbiamo chiuso anche il giro dal prossimo giro non avremo più problemi perché saranno tutte maglie basse e noi andremo a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa io adesso procedo così lavorando i miei giri di maglie basse fino a creare il mio bordino che sarà un bordino di circa 4-4 cm 4-5 cm ma potete farlo alto quanto vi pare quindi lavoriamo il nostro bordino e poi ci vediamo per fare i manici allora ho lavorato 4 giri di maglie basse dopodiché per me era sufficiente e quindi mi sono fermata una volta che ho fatto i miei giri di 4 maglie basse l'unico passaggio che mi manca l'ultimo è quello di creare i nostri manici quindi io sono già andata a realizzarne uno e insieme adesso realizziamo quello successivo io ho fatto un manico di 60 cm che va parte dalla punta delle due mezzelune e poi va a fermarsi sulla punta dall'altra parte volendo potete farli anche partire più larghi quindi più nella parte bassa della vostra borsa e fare dei manici più grandi a me andava di farli così quindi ho deciso di farli in questa maniera uno l'ho già fatto l'ho lavorato sempre con l'uncinetto ma col punto tunisino perché è un po' più rigido e quindi andrà a cedere di meno anche qui volendo potete lavorarlo a maglie basse a mezze maglie alte come preferite questo secondo me è il punto che non usando niente per rigidire i manici e rigidire la borsa è il punto che va a tenere un pochino di più la lavorazione però è una mia opinione e fate un po' quello che volete se preferite maglie basse o mezze maglie alte allora andiamo dall'altra parte e iniziamo il nostro manico insieme prendiamo la prima mezzaluna e contiamo le maglie alte della mezzaluna una, due, tre, quattro, cinque una, due, tre, quattro, cinque abbiamo la sesta in mezzo quindi vuol dire che abbiamo due maglie più una più due queste cinque saranno le cinque maglie su cui svilupperemo il nostro manico quindi saliamo, entriamo nella prima maglia parallela vedete andando in su e andiamo a far passare il nostro filo per comodità io vado a realizzare un nodino e poi andrò a fermare tutti i fili rientro, carico il filo sull'uncinetto allora il punto è così io vado a lavorare cinque maglie potete anche farlo da sette volendo però cinque sono sufficienti entro e ho caricato il mio primo filo senza fare niente vado nella maglia successiva e carico nuovamente il filo senza fare niente vado nella maglia successiva e carico nuovamente il filo ho tre maglie vado nella maglia ancora dopo carico il filo ho quattro maglie sull'uncinetto vado nella maglia ancora dopo carico il filo e ho cinque maglie ho preso le cinque maglie che io ho deciso di lavorare ora carico il filo sull'uncinetto vado a scaricare una maglia la prima carico il filo sull'uncinetto vado a scaricare due maglie carico il filo sull'uncinetto vado a scaricare altre due maglie carico il filo sull'uncinetto vado a scaricare altre due maglie carico il filo sull'uncinetto scarico le ultime due e abbiamo fatto il primo giro ora di nuovo ricarichiamo le maglie la prima maglia ce l'ho già vado sulle maglie che vedete in verticale se voi guardate il vostro lavoro avete adesso delle maglie che sono in verticale una due tre dobbiamo andare a caricare queste quindi io entro in questo modo passo attraverso la maglia che in verticale carico il filo e me lo metto sull'uncinetto vado sulla maglia successiva in verticale eccola qua carico il filo e me lo metto sull'uncinetto di nuovo ecco l'altra maglia in verticale passo attraverso la maglia in verticale carico il filo e me lo metto sull'uncinetto abbiamo quattro maglie una due tre quattro l'ultima maglia andiamo a lavorarla come maglia normale quindi giriamo un pochino il nostro lavoro e andiamo a prendere le due asoline che abbiamo qua una e due e carico il filo ed esco il primo passaggio è più duro perché io ho tirato tanto le maglie perché deve rimanere ben attaccato però poi diventa tutto più morbido ma il primo passaggio veramente è duro ok quindi inutile raccontare bugie il primo passaggio deve essere duro una volta fatto questo andiamo nuovamente a scaricare quindi scarico la prima maglia da sola poi carico il filo, scarico due maglie insieme 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 ed eccoci qua siamo di nuovo puntacapo una maglia ce l'abbiamo sul ferro sull'uncinetto scusatemi andiamo di nuovo a caricare la maglia verticale eccola qui passiamo attraverso la maglia verticale carichiamo il filo e passiamo attraverso di nuovo maglia in verticale eccola qui passo da una parte all'altra carico il filo e lo metto sull'uncinetto ecco l'altra maglia verticale poi man mano che salite si vede sempre meglio guardate qua come si vedono bene le maglie in verticale quindi altra maglia in verticale ci passo attraverso carico il filo e siamo a quattro la quinta dovete spostare un pochino il vostro lavoro in modo da far uscire tutta l'asola eccola qua e lavorate tutta l'asola intera una e due vedete che sono entrate in tutta l'asola qui e ripassate adesso è meno duro il lavoro ok facciamolo un'altra volta insieme carico il filo scarico una maglia carico il filo scarico due maglie carico il filo scarico tre maglie sempre due maglie scusatemi carico il filo scarico due maglie carico il filo scarico le ultime due e ripartiamo una ce l'abbiamo già quindi andiamo nella maglia successiva in verticale quindi questa la ignoriamo perché quella di partenza è dove ci parte l'asolina andiamo in quella successiva eccola qua carichiamo il filo e ne abbiamo due sull'uncinetto maglia verticale successiva ci passo attraverso carico il filo e ne abbiamo tre andiamo anche nella quarta che è verticale carico il filo e ne abbiamo quattro sull'uncinetto la quinta è sempre un po' nascosta e dobbiamo lavorare tutta la maglia quindi sia un'asola che l'altra una e due quella dietro carico il filo ed esco una volta che le abbiamo tutte sull'uncinetto la prima carico il filo e ne scarico una sola e poi le scarico sempre caricando il filo e scarico due alla volta uno scarico due alla volta carico il filo scarico due alla volta carico il filo scarico due alla volta e vado avanti così per tutta la lunghezza ovviamente fate una ne fate una contate quanti giri fate perché poi dovete fare esattamente uguali anche dall'altra parte quindi mi raccomando non perdete il conto o se no poi dovete andare a contare le varie asoline verticali per sapere quanti giri avete fatto benissimo andiamo avanti io come vi ho detto ho lavorato per 60 centimetri voi lavorate i centimetri che volete e che vi servono e dopo di che ci vediamo per l'ultimo passaggio che è quello di andare a cucire sull'altra mezzaluna la nostra il nostro manico dopodiché abbiamo finito allora ho cambiato la postazione di lavoro però qua c'è tanta bella luce quindi voglio rimanere qui sicuramente però non essendo abituata prenderò dentro tutte quindi vedrete sicuramente sono sicura ballare il video quindi abbiate pazienza allora ho realizzato tutta la mia manica il mio manico non è la mia manica ma il mio manico ora come abbiamo fatto di qua vedete sul davanti io sono partita da qua e sono andata sull'altra punta e ho attaccato il mio manico andremo a fare la stessa cosa anche di qua quindi qua siamo partite qua andiamo sempre a contare 1 2 3 1 2 ma non mi vedete 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 questa è la maglia centrale queste sono le due laterali quindi partiremo con l'attaccare la nostra maglia la nostra il nostro manico sulla prima delle 5 maglie sopra eccole qua 1 2 3 4 e 5 quindi ho messo il marca punti ora ho realizzato tutti i miei giri e per farvi vedere aspettate che qua mi sono incastrata tutta ok per farvi vedere sono rimasta ferma con i 5 fili sull'uncinetto per andare a cucire dobbiamo tornare indietro quindi scarico 1 scarico 2 scarico 2 scarico 2 e scarico 2 in questo modo ora noi dobbiamo andare a cucire all'interno quindi non si deve vedere la cucitura fuori dobbiamo vedere la cucitura all'interno quindi mettete il vostro manico diritto in modo che non faccia pieghe così ok e così dobbiamo andare a cucirlo in modo che la cucitura sia all'interno quindi il manico lo appoggiamo all'esterno in questo modo ora tolgo il marca punti perché sennò non riesco a lavorare stringo bene l'asolina la mia maglia dove devo entrare è questa ok è questa qua quindi entro nella maglia davanti ho staccato l'uncinetto vedete entro nella maglia davanti rientro nell'asolina tiro bene il filo e passo attraverso in questo modo ho attaccato le mie due parti ora vado nella maglia davanti entro nella maglia davanti poi vado a prendere il mio dietro ed entro nella maglia dietro prendendo tutte e due le asole adesso è come se fossero maglie basse è duro deve essere duro e voi tirate ancora di più perché la cucitura deve essere ancora più dura di quello che è già duro se non lavorate col cordino e lavorate col cotone tirate forte tirate veramente forte aspettate perché ho lasciato il filo guardate dove ho lasciato il filo il filo mi serve qua ok rientro prendo il mio filo esco e lavoro una maglia bassissima tirate stretto 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 due entriamo nella terza entriamo nella terza anche di dietro tirate il filo maglia bassissima entriamo nella quarta entriamo nella quarta maglia anche di dietro prendete il filo uscite e tirate tantissimo e andate a cucire anche la quinta quindi quinta di qua e quinta di qua uscite e lavorate una maglia bassissima a questo punto io faccio una solina in più e vado a tagliare il mio filo non ho preparato le fortici giuste quindi mi organizzo con quelle che ho dov'è il mio filo ok e vado a far passare il mio filo e tiro abbiamo finalmente finito la nostra borsa mare eccola qua con le due con le due con i due manici e tutto pronto adesso non ci resta altro che andare a nascondere i fili nel mio caso dovrò andare a nascondere il cordino dare una bella sistemata a questa borsa in modo che prenda tutta la sua la sua forma giusta e il progetto è finito benissimo io spero di essere stata chiara in tutto spero di non aver commesso troppi errori se non siete iscritti al mio canale vi invito a iscrivervi a iscrivervi al mio canale youtube la francesuncinetto se volete lavorare con noi e quindi realizzare gli eventi e interagire con me mi trovate nel gruppo facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli lì realizziamo alcuni eventi insieme e poi c'è l'interazione che su youtube non si riesce ad avere come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo progetto